Un vero e proprio terremoto sta scuotendo in queste ore Torre del Greco. Il Vesuvio non c'entra nulla, il terremoto infatti è giudiziario. Sì perché questa mattina alle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari emesse dal GIP di Torre Annunziata, a carico di altrettanti indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale, attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di arma da sparo comuni e da guerra. Nel corso di indagini coordinate dalla procura di Torre Annunziata i militari dell'arma hanno scoperto l'esistenza di un sodalizio criminale attivo a Torre del Greco che in occasione delle elezioni amministrative del 2018 avrebbe acquistato voti in cambio di somme tra i 20 e i 35 euro o di generi alimentari o promettendo posti di lavoro previsti da un progetto regionale. I due consiglieri coinvolti sono Stefano Abilitato agli arresti domiciliari e Ciro Piccirillo per il quale è scattata la misura del divieto di dimora. Il primo avrebbe partecipato alla gestione delle assunzioni dei netturbini che avrebbero beneficiato di un impiego a tempo determinato per il consorzio GEMA tramite l'agenzia interinale da DIF Consulting e lo sfruttamento di garanzia giovani a pochissimi giorni dalla corsa alle urne. Il ruolo del secondo, Poliziotto, è legato principalmente alla rivelazione dell'inchiesta agli indagati. Stefano Abilitato ha chiuso l'ultima campagna elettorale di Torre del Greco collezionando 927 voti. Broker assicurativo già consigliere comunale ex Forza Italia era candidato con la lista civica Il Cittadino a sostegno del neosindaco Giovanni Palomba. Ciro Piccirillo invece ha il suo terzo mandato consigliare consecutivo. Sono dispiaciuto ma al tempo stesso sereno porterò avanti l'aggiunta alle parole del sindaco Palomba ma devo riconoscere di aver subito attacchi a Palazzo Baronale da parte di persone che venivano a reclamare un posto di lavoro in comune promesso loro indebitamente da qualcuno. Ho denunciato tutto. Per il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba quella di oggi è davvero una giornata difficile.